Musica Ciao a tutti WanoHaters e benvenuti a una nuova puntata di Sleeping Dogs Sono a casa perchè volevo utilizzare il sistema di sorveglianza che abbiamo preso un paio di telecamere Quindi North Point, abbiamo tre di queste, quindi abbiamo il vicolo Louie May che abbiamo appena utilizzato Arresta Ciao caro Scappano tutti, lui arriva e viene arrestato, perfetto Meglio di così Abbiamo arrestato quello giusto spero, si E 10.000 per fare queste cose Perfetto, ok, quindi facciamo un altro di questo perchè ne abbiamo ancora un altro da fare Credo, ne abbiamo forse anche due Un vicolo Louie May, abbiamo il Golden Koi Si Che questo è quello che abbiamo fatto per la missione Poi c'è questo, c'è questo Eh beh ma non sembrano esserci dei Non sembra esserci del Dell'attività Il posto full long Eh no, non c'è attività Potremmo far arrestare la tipa Perché no Va bene Niente Però 10.000 per quella roba lì è interessante Comunque Tiriamo giù questa porta No, l'apriamo normalmente, perfetto E poi iniziamo a correre Posso aprire qua Ciao zio Oddio Tu nuda Che schifo Ok, vediamo cosa possiamo fare Allora possiamo riportare la statuetta E tanto è sempre una cosa buona e giusta da fare Se no c'è il nuovo caso disponibile e l'alta velocità Allora facciamo così Andiamo a riportare la statuetta E facciamo l'alta velocità E poi faremo partire il nuovo caso Quindi, macchina Vabbè la moto Niente Go Yes Age Club mi piace Allora Qua Perfetto Entriamo qua dentro E un'altra statua Il cane Perché? Che cazzo Cosa c'entra? Questa è però Ti fa riflettere Allora abbiamo imparato questo Questo è molto interessante Poi calcio in verso rotante X X Tieni per muto X X X X E tieni per muto X Se no ha contratto il disormare O lo spezza gamba Va bene Yes Il calcio in rotante È pur sempre il calcio in rotante X X No, quello è X No Oh yeah Ok, ma questa la savo già fare Ho preso anche il tipo sotto Dai risvegliati Che no ho dovuto aspettare due ore e mezza ogni volta Tuoi ancorati, Codio No They like to disown you No Strong like bear Not live like noodle Funziona anche con lui quindi No, ok Ok, quindi posso tenere lui attaccato Ok, boom, boom Un discorso della scuola Non è venuto Ok 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 Sì signore Loro vengono menati Loro sono qua per essere dei sacchi di cacchi Vengono menati da me Quindi Abbiamo imparato il caccio inverso rotante Che già facevo Molto utile grazie sleeping dogs Quindi Nuovo caso disponibile Andiamo al nuovo caso E go Un'altra distante 400 metri Sì possiamo farcela tranquillamente Senza velocizzare Ottimo Questo è come arrivare con stile e classe Vestito così Vestito così Ottimo Uh che figata Ci sono anch'io C'è Kim Ma Dottie Ming Dottie Wong Viennilu Sonni Doggyes Biggish Nile Li Tuqin Tsao Broken Nose Deng Winston Chu Chu Golden Goy Con Roy Bok Mark Chuk The Dragon Head Perfetto Ok Sappiamo tutte le cose lì Carino però che ci sia proprio questa cosa qua Ti fa vedere tutti anche se non lo sai Uniremo il cellulare Jackie Chi dovrei chiamare per sapere delle gare? Yeah Ace è amico di un amico Ace è amico di un amico di un Chiama Ace ok Quella è una macchina veloce Ok questo però è figo scusa Usa l'altare della salute Ah no Ah capito ti potenziano la salute Zio non ti scopare l'altare della salute Andiamo Che macchina figa Vieni di qua Ma non è super veloce come l'altra Guarda strano Ok l'Age Club mi piace Ma ciao ragazzi Tokyo Drift signori La Fast and Furious Nice Mi piace Proprio la Fast and Furious questa I wonder if he go In my mini Tokyo Fast and Furious Ok ragazzi Inizio di qua Yeah Così si fa Si fa schiantare tutti Perché noi siamo Fast and Furious Yeah Praticamente sto facendo un muro A tutti E basta Quello È quello che serve per vincere Vieni qua zio Amo 33% completo Go go Mi piace sta gara Però è carina Quelli di San Andreas Facevano un po' schifo Onestamente Dai 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 Vieni qui Ah potevo fare il salto No tanta roba 57% Devo riprendere Sto tizio Oddio passano tutti Però adesso Yeah Voglio il NOS Oh no 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 Go 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 87% Devo vincere la gara Yeah 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 Grazie No mi sono chiantato Ah Tristezza Non è una gara però È autoscontro Ragazzi Yup E io vinco Ho vinto una gara di autoscontro Non ci credo Ah sì Ah sì Ah sì Ah sì Entra su una scena delle gare su strada Ok Facciamone ancora uno Ho sbloccato l'auto da corsa sequestrata Questo sarebbe un'auto da corsa sequestrata Ehi wey mi serve il tuo aiuto Finata da Trann Ottimo Ok perfetto Veicoli Se la tua reputazione è abbastanza alta Puoi comprare un veicolo al mercato nero Mi piace sta cosa Quindi Scusa Emma Tiffany Oh hi How are you? I'm good Listen Are you busy later? Well I'm working Why? I was thinking of dropping by Bam Bam To see Oh that'd be great Do you want to see karaoke? Uh Well you have to get a few drinks in me first But uh Maybe See you in a bit You got it Bye bye Uh Quindi abbiamo una Noi andiamo a vedere Tiffany C'è anche la cosina Con la tizia Mi piace sta cosa La canzone di Tiffany Go Andiamo a Farci Tiffany Divertile Si Si può dire E' un parcheggio perfetto Parcheggio perfetto E andiamo da Tiffany Al Bam Game Club Eh il Bam Bam Club Non è qua vero? No Tiffany Allora l'entrata è lì Ups Ok Mi sa che l'entrata è bloccata da una cosa di Letria di Noi Lì Ok perfetto Tiffany È la migliore entrata in un locale Voi due vi state ancora baciando? Sul serio? Che tristezza Ciao Tiff Oh you're here Calina There's no escaping karaoke here is there You want to sing first? Prima di cosa tesoro E va bene cantiamo Che sono una karaoke I fought a lot A lot of love Really Really In the years Hit me with the best Hit me with the best Ciao tutta la vita Oddio non è facile vero? Ok Ok Hit me with the best Shot Hit me with the best Shot Yeah È difficile comunque Non ho ancora perfettamente capito Il posizionamento di quello lì sotto Yeah Ok signori Yeah Tutta la canzone è E quello che sta cantando in realtà Sappiatelo È il vero doppiatore di Way Quindi si è prestata questa cosa Che è fighissima Lei non è molto contenta Se devo essere sincero Perché sai la solo di chitana? Yeah Così ragazzi Ottimo Carino sto gioco Minigioco però E' l'87% Faccio cagare Ok posso Lei è tutta innamorata Della mia vita Canora E' muovere un tasto No grazie E' magari la prossima Soprattutto Soprattutto Soprattutto? Quindi Soprattutto? Non vuoi che mi sentire Nel lap e chiedere per te? That's the kind of thing Clients usually want Well When you put it like that Let's go Attenzione Oddio santo Favore completato Che già sono indicata Da minimap 9 canzoni Cioè vuoi dire che me la sono chiamata? Perché lei è un'esperta Ha detto Va bene Pardon Chiamata da Nung Ping Ho parecchie cose Grisel soddisfare? Ok ragazzi Dopo questa chiamata Ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti